e salve a tutti i ragazzi benvenuti in questa nuova puntata finalmente la puntata 3, si penso di si, si la 3 di Need for Speed Hot Pursuit signori beh si è passato un bel po' di tempo dunque andiamo avanti con un Hot Pursuit direi oggi come al solito stavolta dalla parte dei piloti e rispondendo a una richiesta almeno una mi è arrivata ragazzi di Veget HD lo saluto, mio grande amico oggi guiderò con un Audi e quale Audi migliore di questa? direi che come colore meglio bianca vediamo signore l'Audi R8 la voglio la voglio davvero signori e un giorno ce l'avrò dunque che ho da dire? non lo so ho appena fatto l'episodio 3 di Modern Warfare 2 ora sto facendo l'episodio 3 di questo signori Avalanche si chiama mi ricorda malapena come si guida signori e anche come si usa il controller della play perciò non stupitevi se faccio di quegli errori madornali ok allora mi sembra tutto un po' troppo tranquillo per ora non mi sono ancora schiantato cosa buona e giusta ma va bene inutile che fai il figo bene non voglio colpire col furgone ma mi ricordo ma l'avevamo già fatto questo? l'avevamo già fatto? striscia chiudata no perché ho sbagliato? signori 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 andiamo 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 allora cosa posso usare? si qua l'ho preso signori eh non si scappa eh dalla morsa di Hornet non si scappa usiamo una striscia chiudata anche sul primo sul primo ragazzi o meglio il primo sono io come IEM è attivato ma ti piacerebbe altro poliziotto in arrivo il basotto poliziotto scoprirà la verità si si passa passa amico forse amico no eh eh ti piacerebbe si che l'ho preso ma perché qui prendono sempre una distanza assurda i nemici? anche la scorsa volta è successo scusami tanto amico eh però mi stavi un pochino si è colpito da solo cioè si sono colpiti fra di loro oh ma questi è incredibile eh il rispetto che non ci hanno il rispetto ragazzi perfetto è lo stesso controller che si stava scaricando ebbene si ragazzi non ricarico i controller ho smesso no ma la cosa che mi preoccupa è che non sto più raggiungendo il tipo là davanti basta con sti sportellazzoni no non il blocco stradale come incidente guardate dove gli ho sparato la macchina guardatelo vabbè almeno sono primo dai no potevo colpirlo mi piacerebbe ma anche domani se volete eh e perché sto rallentando drasticamente bello amico hai fatto la mossa dell'anno tu non passi signori tu non passi no 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 ma che non passi non passi wow no è passato signori non mi sfugge adesso eh ho gli M per un motivo e vedrò di usarli non mi sfuggirai non mi sfuggi no no polizia no 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 polizia dovete beccare il primo non me oh eh scusami se mi rompi Kugyun io te rombo lo culo ecco ti piace? ti piace come idea? a me si lì c'è da svoltare molto bene ecco altra macchina della polizia ne arrivo e va bene dai va bene ma mi ricordo adesso questo pezzo questo lezzo perché ho fatto qui il tagliettino? no 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 come ha fatto a pigliarmi ero fuori ero fuori bersaglio no no che cos'è no che cos'è non ci credo ma porca di quella no no e dai due nuove ricompense si ma come ho fatto signori porca gioia mi sono fatto addirittura catturare signori è incredibile l'unico che ce l'ha fatta al mondo dai ma siete stronzi però vabbè ragazzi mettiamola così se non mi fossi schiantato avrei vinto facile Hornet no va bene allora avrò la mia rivincita con la polizia dai proviamo qualcos'altro un hot pursuit polizia con sempre le solite auto eh mica davanti ho le solite auto la zona della polizia signori ho imitato perfettamente no di notte no ragazzi qui mi sa che ma non l'ho fatto oggi anche questo in una puntata vabbè dai come scusa che mi sono fatto catturare almeno quello lì l'avevo già fatto nella scorsa puntata cos'è che era la scorsa guardate che roba non posso perdere con questa macchina si avevano già fatto anche questo mi sa mi sa proprio di si dio dio non cominciamo non cominciamo con gli schifi lezzo via va bene guardalo il bastardo lo avete visto voi l'avete visto voi testimoni mi è sfuggito intelligente il computer però un po' troppo veloci ragazzi oh mi sembra giusto no si senza che il computer mi faccia schiantare però è elicottero blocco stradale mo' striscia chiudata guarda perché perché l'ho lasciata nel vuoto la striscia qui non posso pensare a cento cose amici ma che lo piglio te fa il companche stai la striscia madonna signori il massacro no il massacro in questa mappa c'è sempre il massacro no dio ringrazio quella buona anima di pilota che mi ha usato il disturbatore nel mentre io passavo sulla mia stessa striscia guardate che mo' lo piglio crede di essere furbo lui eh lui crede in effetti un po' lo è però non sorpassami a tuo rischio e pericolo guardatelo 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 senza vergogna senza vergogna dov'è il fuggiasco guardatelo madonna 200 km in vera a parte e che lo piglio va bene allora vorrei dire che rallenterò un pochino e olè blocco stradale dov'è che è non posso vedere la minimappa dio aiutami hai sfuggito il blocco tu via per favore altro elicottero dai ragazzi adesso non ci scappa non ci scappa sti non è morto cioè sei ribaltato mi sono tu muori bravo madonna proprio appena li tocco sparano via tu se eviti di di aiutarmi nelle curve dai altro blocco signori ma manca solo lui no non credo lo seguo lo seguo no sei finito eh l'ho già preso prima che disastro signori ho beccato anche lui si si certo non è proprio il finale più spettacolare del mondo ma ma questa l'abbiamo vinta signori si ho capito che ho vinto ma guardatevi lezzi si ho capito no vabbè direi che ci stiamo rifatti signori adesso passo direttamente alla prossima puntata senza piantarla di registrare e allora ci vediamo alla prossima puntata ragazzi ciao